Pensava di farla franca, invece è stato rintracciato e ammanettato il ragazzo che ha tentato una rapina in un supermercato del centro a Barletta. La chiamata al 113 ha informato gli agenti della polizia riguardo una rapina in un supermercato. In pochi minuti la pattuglia è arrivata sul posto in via Rizzitelli ma il ladro era già fuggito. È stato rintracciato dopo poco nella sua abitazione ed è stato arrestato. In manette è finito un 23enne della città incensurato. Durante la rapina l'uomo ha aggredito la cassiera e si è impossessato di un computer credendo che si trattasse del registratore di cassa contenente del denaro. Poi è fuggito, poco dopo è tornato indietro per sottrarre l'incasso ma è stato allontanato dal personale del supermercato. La fuga è durata poco, i poliziotti hanno acquisito la descrizione dell'uomo e visionato le telecamere della zona. Durante la perquisizione in casa gli agenti hanno trovato la maglia che il giovane indossava nel momento della rapina. Dopo l'arresto ha accompagnato i poliziotti in una strada vicino casa dove aveva gettato il computer ormai danneggiato. Adesso il 23enne è in stato di fermo.